Bentrovata e bentrovato. Questo video era nato per essere altro. Avrebbe avuto probabilmente un nome tipo fare video con audio perfetto in esterna e senza microfono, sfruttando la tecnica di Enrico Gezzi in fuori orario. Te lo ricordi? Un genio assoluto. Ma poi ho pensato di usare questa paraculata per risolvere rapidamente l'incombenza, ma con piacere, di presentare il corso su Logic Pro X stagione basic che ho finalmente completato. Logic Pro X, per i meno avvezzi, è una DAO, una Digital Audio Workstation, insomma semplificando un software completo per fare musica. Il corso è accessibile interamente a gratis su YouTube. YouTube permettendo. Eh, non lasciarti ingannare. Ricorda che se è gratis il prodotto sei tu. Ma non voglio trasmetterti ansia più di quanta tu ne abbia già. Se stai cominciando o vorresti cominciare a fare musica con Logic Pro X, questi sono i tutorial adatti per te. Se vuoi fare un upgrade dal gratuito ma onorevole GarageBand al più professionale Logic Pro X, questo è il punto ideale da cui devi partire. 29 video che introducono tutte le funzioni e le modalità operative di questo grande software, aprendo la strada al complesso mondo della produzione musicale, realizzata interamente in home e in the box grazie al digitale. Bada però, questa condizione non è più solo un ripiego per squattrinati come me, ma una scelta sempre più spesso abbracciata anche dai più grandi producer a livello planetario. O almeno, in che il pianeta è vivo e lotta insieme a noi. Dagli allora, forte coraggio e se il mio cianciare lo trovi interessante e pensi possa esserlo anche per altre e altri, magari condividi la dritta, suggerisci il canale, spamma il link della playlist. Intanto tu, ehi, dico a te, hai messo il like a questo video? Iscriviti anche al canale, lo aiuterai a crescere. Ma acciacca la campanella invece per non dimenticare. Ci vediamo prossimamente, se vuoi anche negli altri miei canali online o nei prossimi video. Dai e forte!